Un database, un archivio elettronico, immenso. In questo database c'erano i risultati di 12.400 esami ematici fatti in 12 anni sugli atleti di tutto il mondo. Alcune migliaia erano anomali o fortissimamente anomali. Addirittura riguardavano giovani vincitori di medaglie minorenni ai campionati del mondo juniores. C'era di tutto. E quello che era chiaro è che nessuno di quelli era stato squalificato o sottoposto ad un procedimento di accertamento. Quindi io mi resi conto che quello era imbarazzante.